benvenuti a bordo comandanti io sono blizzard e oggi siamo qui sulla palancia di comando del samurai giapponese ign tone incrociatore tier 8 diciamo per molti versi simile a quello che anche tecnicamente non lo è ma è il suo fratellino atago per quanto riguarda il compartimento premium giapponese sempre a questo tier ed ha una vita che la wargaming non pubblica più un incrociatore tier 8 premium giapponese l'attago è stato uno dei primissimi a essere stati inseriti a quel tier premium in world of warships credo ancora nel lontanissimo forse fino a 2015 inizio 2016 e addirittura ora siamo nel 2021 quindi è veramente passato tantissimo tempo almeno per quanto riguarda le navi storiche non sto parlando delle versioni anime giapponesi che piacciono a comment e agli altri pervertiti comunque per quanto riguarda la partita di oggi siamo qui su estuario siamo top tier questa volta non cadi il pita spesso ma questa volta si ryujo contro wazer da 23 kagiru gepar contro benson asasho e gepar dall'altra parte il nostro piccolo grande supereroe farà valere tantissimo la sua anima d'acciaio riusciremo praticamente a fare i padroni del lato destro ovviamente siamo qui su questo lato di mappa insieme alla z23 la portaria che cercherà un po di darci una mano l'union orlins il bayern nessuno sbaglio arriverà anche un'altra nave poi a rimorchio ovviamente quale sarà l'unica nave a restare a galla ovviamente il sottoscritto comandanti salutiamo subito l'algerie francese incrociatore tier 7 piuttosto pesante a distanza piuttosto importante i nostri 203 entrano in azione e ovviamente cade il primo incendio questo perché i cannoni di questo incrociatore sono veramente armati dai piromani cinesi giapponesi il tone è tra l'altro una nave realmente assistita comandanti e nella seconda parte del video poi vi farò vedere anzi per meglio dire vi spiegherò quella che è la sua incredibile storia diamo anche il benvenuto al gepar che cerca come di attaccare il nostro zebenda 23 e giù una tramvata praticamente da quasi 3k incapacitando anche una delle sue torri il tone ha un quantitivo da capito 38 mila e 900 sicuramente i punti vita non sono il suo punto di forza una velocità massima impressionante di 37 nodi e 3 non sto scherzando con le bandierine e tutto a bordo raggiunge delle velocità incredibili in questo è uno dei migliori addirittura tutto il mondo cruiser di world of warship senza nessun boost o altro a bordo la sua capacità di manovra prevede una virata di 780 metri con un timone che risponde in circa 10 secondi quindi bene ma non benissimo da questo punto di vista per quanto riguarda invece il suo consummate è sicuramente uno dei punti di forza più incredibili perché è molto raro trovare un incrociatore pesante con canoni da 203 che ha un consummate di 8 chilometri 8 via acqua e 5 chilometri 8 via aria questo dà un comfort incredibile all'incrociatore che è in grado di avvicinarsi velocemente agli avversari e poi può disingaggiare con una facilità praticamente disarmante una delle particolarità del tone che è anche una cosa piuttosto unica nel compartimento giapponese è quello di avere completamente a prua tutta la sua armamentaria d'attacco praticamente i quattro canoni binati a 23 sono tutti lì davanti quindi lui è in grado anche di angolarsi ogni tanto e praticamente cercando di far collimare meglio i suoi colpi con i canoni anteriori ed è qualcosa che io ho trovato incredibilmente interessante questa poi è un'altra chicca del tone il fatto che lui si è armato con questi aerosiluranti d'attacco sono infatti dei aerei ai c da 135 nodi di velocità massima con praticamente quattro armati c'è una squadrina composta da quattro aeroplani armati da due torpedo per ogni quindi fino a otto siluri in acqua danno massimo dei siluri 2767 hp degli aeroplani circa 1670 tra l'altro queste statistiche non sono minimamente migliorabili perché come sapete esattamente come gli altri ibridi come ad esempio l'ise che è uscita da poco tutti i moduli che avete a bordo della nave o le skill comandante della nave non prevedono un potenziamento dei vostri aerosiluranti siamo riusciti a droppare qualcosina contro l'affuso che se non la tier 6 non ha sicuramente una tiera particolarmente potente guardate un po ben 5 siluri vanno a segno danni così così niente è uno dei problemi che hanno queste ibride l'ho riscontrato anche comandanti con l'ise il fatto che questi aerosiluranti raramente riescano a mettere a segno dei dei flooding è una cosa piuttosto frustrante perché io ci contavo molto sul far usare velocemente il damage contro all'avversario ma purtroppo va così avete visto poi che ho lanciato due wave da tre di torpedo in acqua questo perché lui è armato anche con un doppio lanciatore per lato da tre sono siluri da 610 mm pesantissimi capaci di arrivare fino a 10 chilometri per 62 nodi ricaricano in circa 76 secondi danno massimo 17.233 un danno piuttosto importante comandanti è molto molto facile fare grandi danni con questi torpedo anche perché sono incredibilmente veloci lo spotting è circa di un chilometro e mezzo standard dei 610 mm giapponesi come potete vedere la situazione può sembrare dalla nostra parte perché siamo riusciti a prendere il cap e di là sono molte di più rispetto agli avversari ma dall'altra parte faticano ad andare su mentre da questa parte c'è un enorme gruppo di battaglia composto da tre corazzate un destroyer e due incrociatori pronto a pushare nel cap e noi che siamo rimasti da soli perché la Z23 è stato affondato e il New Orleans ha pensato bene di giocare dall'altra parte non possiamo assolutamente compensare con questo guardate un po' l'Atalanta ha messo leggermente avanti il muso una volta trambata da due centri a partita e guardate un po' ovviamente incendio e ben cinque colpi a segno la precisione di questi 203 mm è veramente notevole parliamo un attimino di questi cannoni sono quattro torri binate appunto da 203 estremamente leggera è molto facile incapacitarle sicuramente è una cosa che ho segnato tra i punti deboli del tone hanno una ricarica in 16 secondi hanno un brandeggio torri di circa 23 secondi per 180 gradi e hanno una gittata massima di 15 chilometri e 700 metri sì comandanti non è un granché anche perché come potete vedere non c'è la possibilità di montare un aeroscout quelli sono i consumabili che avete a bordo ora un altro dei problemi di questa nave è proprio la gittata perché comandanti il tone come anche gli altri incrociatori giapponesi ha questa incredibile facilità di avvicinarsi agli avversari e riuscire a spottarli facilmente però poi quando gli avversari vanno in allontanamento lui non li può inseguire il più delle volte guardate un po' questa è una classica manovra che si può fare con questo genere di navi il nemico viene avanti e vi nascolete dentro un isolotto e poi attaccate l'obiettivo è proprio quello di cercare di decappare andando sulla Zash ma come potete vedere la nave ha un vantaggio enorme a livello di spot nella Zash è uno dei migliori destroyer in costa del gioco i nostri soluri ovviamente non hanno trovato nulla siamo riusciti a sparare leggermente in anticipo restando invisibili sulla corazzata americana e ovviamente incendio questo perché la fire chance del tone raggiunge il 19% è veramente notevole considerando la precisione dei cannoni questi proiettili viaggiano 840 metri al secondo non sono veloci come i sovietici o come i tedeschi o come gli italiani quindi ci vuole un po' di destrezza per padroneggiare questi coi non è così facile come sembra bisogna prenderci la mano perché il colpo è oggettivamente abbastanza lento per un neofita per quanto riguarda invece il danno è una cosa molto interessante perché vedete molto spesso io vi consiglio di non fidarvi troppo dei vostri proiettili AP questo perché i 203 giapponesi sono molto particolari a parte sullo Zao su pochi altri cruiser sono particolarmente performanti ecco perché cercate sempre di abusare dell'HE e dei suoi incendi se guardate il danno massimo dei proiettili spiega proprio questo il proiettile AP fa 4700 di danno massimo il proiettile HE del tone arriva a 3400 base praticamente non c'è così tanta differenza di danno tra un HE e un AP ecco perché si cerca sempre di abusare dei proiettili AP e dei proiettili HE dei giapponesi perché oltre ad avere un'eccellente fire chance fanno effettivamente molto male molto più male di altri proiettili incendiari a bordo di altri incrociatori ecco perché fanno così tanti danni quasi 5000 con una salva easy più l'incendio la capacità di kiting del tone è straordinaria i sullure li abbiamo trattati trattiamo un attimino l'antiera che è sicuramente una delle più grandi schifezze a bordo del tone è un'antiera assolutamente insufficiente per un tier 8 figuratevi contro i tier 10 batterie da 25 di due diverse tipologie e da 127 mm che poi sono le sue secondarie capaci di arrivare fino a 5,8 km con un danno massimo di 1470 radiante e solamente 128 di danno continuativo è quello il problema guardate un po' grazie alla Portaeri e al Gepard siamo riusciti anche ad avvistare l'Azashi sulla nostra destra e cerchiamo un po' di andare sotto lui anche perché dalle nostre spalle c'è una forza navale composta da 6 navi in push l'Azashi ovviamente preferisce avvicinarsi a noi stupidamente invece che andare a fare a botte col Gepard cosa che sicuramente doveva fare per evitare di essere affondato però comunque cercherà di vendere cara alla perenne noi non siamo tanto attenti su tutto lì questo perché dobbiamo stare molto attenti alle battleship alle nostre spalle troviamo nuovamente la salva altro dolore sul facile bersaglio giapponese che tra l'altro è un destroyer comandanti particolarmente leggero è molto facile fargli male qua riuscirà addirittura a lanciare una cortina fumogena rallentare in maniera incredibile evitare questa salva che non mi aspettavo assolutamente tra l'altro comandanti le secondarie del tone hanno una particolarità sono piuttosto di lunga gittata perché sono 4 torri minate da 127 con 2100 di danno un fire chance del 5% e pensate arrivano fino a 6,6 km che non è male per essere un incrociatore così leggero di armatura l'unico problema è che ricaricano in 7 secondi e mezzo quindi sono particolarmente lente a questo punto noi lasciamo che il Gepard si occupi della Zash anche perché la Zosho come sapete non può torparlo e anche perché oggettivamente il comandante sperava di ucciderlo di secondarie devo essere onesto il Gepard ci anticipa sulla Zosho e decidiamo quindi di andare sul Gepard nemico anche perché è l'avversario principale più pericoloso considerando che se abbattiamo lui potremo poi giocare di spotting e non spotting contro le corazzate in avanzamento la Maggi si è praticamente aggiunta all'Algerie e alla Fuso in push mentre l'Atlanta e la Colorado hanno deciso di ripiegare per andare a bloccare il push a destra dei nostri alleati che da quel lato hanno praticamente sfondato il Gepard ormai è in fin di vita riesce in qualche modo ad affondare il nostro Gepard che stupidamente ha aperto il fuoco lui pensa di salvarsi fa i conti male con l'oste perché il Tone non lascia scampo e alla fine arriva la kill per quanto riguarda invece il resto della nave lo resta di sguardiamo praticamente trattato trattiamo un attimino la storia di questa nave dato che in questo momento siamo in kiting e praticamente ci occuperemo di tre navi che saranno in push verso di noi cercano di proteggere la Porta Eri che sta praticamente scappando tra l'altro da evidenziare il lavoro che ha fatto la Nagato veramente notevole il suo lavoro il Tone Comandanti è una nave realmente esistita il Giappone l'ha impostata e costruita nel 1934 presso i cantieri Mitsubishi di Nagasaki e il nome praticamente è preso da una città del canto era uno di due navi gemelle l'altra praticamente era la Kikuma e era molto importante comandanti il lavoro che questa nave faceva all'interno della flotta perché vedete una delle particolarità negative che avevano le portaeree i giapponesi era quello di non avere a bordo degli aeroscout avevano solo dei caccia zero o dei bombardieri di conseguenza l'intera fase di scouting per proteggere la flotta o per avvistare il nemico era praticamente nelle mani dei idrovolanti che erano proprio a bordo del Tone e del Kikuma il Tone dopo essere stato impostato nel 1934 a Nagasaki ha praticamente visto l'acqua per la prima volta nel 1937 è stato ufficialmente consegnato alla marina nel 1937 da lì ha partecipato a tutte le principali battaglie dei giapponesi nella seconda guerra mondiale era infatti lui di punta nel 1941 quando attaccarono per l'arbor e lui fece da apripista diciamo per capire se gli americani avevano in qualche modo degli incrociatori a difesa dell'isola nel 1942 poi prese praticamente posto nell'ottava flotta a Truk e partecipò poi al Rai di Darwin la famosa città australiana dove tra l'altro riuscì ad abbattere anche diversi idrovolanti Catalina nel 1942 ha partecipato alla battaglia delle Midway dove ha soccorso in mare diversi giapponesi alla deriva e nel 1943 è stato portato in un cantiere navale perché l'hanno completamente rinnovato aggiungendo altri idrovolanti a bordo e soprattutto facendoli installare il Type 21 che era il radar giapponese di quei tempi nel 1944 poi sposta la sua attività a Singapore per cercare di bloccare la flotta britannica in avanzamento nell'oceano indiano e infine fa ritorno nell'ottobre proprio in Giappone e parteciperà alla battaglia di Leti dove verrà pesantemente danneggiato nel 1945 poi torna a Cure dove diventa una delle navi principali a difesa del porto e i giapponesi e gli americani grazie ad alcuni ride pesantissimi partiti in particolare dalla Portaeri Monterey lo affonderanno con diverse bombe nel 1945 la nave poi è riuscita comunque a ancorarsi e a arrenarsi in una zona poco profonda e verrà poi smantellata due anni dopo nel 1947 questa praticamente è la storia dell'I.G. Entone potete vedere qua ormai la partita è un po' in chiusura i nostri ellati sono riusciti completamente a sfondare a sinistra non è rimasto più niente la portiera inimica è stata affondata e l'andagato sta effettivamente scortando la Ryugio in acque salve è riuscito addirittura ad affondare l'Atlanta e a proteggere poi dal push la Ryugio ha completamente sbagliato la direzione di navigazione ma la nostra grande battesci giapponese ha fatto un grandissimo lavoro di copertura molto raro trovare un giocatore che gioca così di squadra all'interno delle random battle vedete come la nostra armatura angolata riesce bene o male anche a proteggersi dai colpi di Yamagi e di Fuso abbiamo attancato guardate un po' quasi 2 milioni di danno potenziale e siamo mai ridosso dei 100.000 danni e gli incendi continuano a cadere con una facilità veramente disarmante è veramente una nave fastidiosa da ingaggiare quando è messa in queste condizioni e a parte il fatto che io sono un giocatore piuttosto esperto nel kiting mi diverto tantissimo in queste condizioni era poi una delle mie posizioni principali quando giocavo nel competitivo ovvero giocare nel lato debole e cercare di far perdere più tempo possibile alle navi nemiche ed è quello che sostanzialmente sto facendo con questi due fessi giapponesi che cercano di inseguirmi per affondarmi inutile dirvi immagino che lo immaginiate stiamo cercando un incendio a poppa lo troviamo doppio incendio sulla maghi la maghi praticamente è quasi condannata ce la portiamo giù e ce la maniamo tra poco faremo un attimino del consumabile come abbiamo fatto oltre infatti all'idrovolante scusate oltre infatti alla squadrina di siguranti che avete a disposizione e ai siguri che avete visto prima abbiamo il damage control il sonar e ovviamente il repair party è un po' una chicca in più che a tutti gli effetti permette a questa nave di tra virgolette competere con la Tago questo perché immagino che tanti giocatori che magari sono le prime armi non lo conoscono e non hanno la Tago dovranno magari decidere se prendere questo o prendere lo storico incrociatore pesante giapponese io ho trovato tantissime somiglianze tra i due c'è una leggera differenza dal punto di vista dell'armatura oltre al fatto che la Tago può lanciare i siguri in avanti però devo dirvi comandanti che il tone mi ha veramente divertito tantissimo e se siete dei giocatori di cruiser particolarmente esperti e vi piace giocare in isolamento o comunque sui fianchi questa comandante è una nave che può dare grandi grandissime soddisfazioni direi che possiamo anche lasciare il nostro amico qua al fesso con praticamente in situazioni di isolamento e possiamo andare praticamente allo screen singolo di partita dove troviamo l'ennesimo incendio guardate un po' 17 incendi quasi 130.000 danni portati a casa 6 siluri a segno diverse incapacitazioni e anche qualche qualche torpedo portato appunto a casa oltre che 2 kill lo screen di squadra non ce la diamo comunque siamo arrivati i primi e subito dopo è arrivata praticamente la Nagato andiamo direttamente a quelle che sono le skill che ho scelto per questo incrociatore che è praticamente il seguente parliamo un attimino dei moduli avete visto come il propulsion mi serviva per accelerare ed accelerare velocemente in maniera efficace non dando un punto di riferimento alle corazzate molto utile quando siete in kiting constant e miglioramento diciamo della precisione sono un must tecnicamente potreste anche sacrificare il secondo nodolo per metterci quello con il carbone per aumentare la durata del sonar ma secondo me lascia il tempo che trova per quanto riguarda il setup è un setup classico per quanto riguarda i cruiser da kiting con il reload migliorato quando siete praticamente avvistati tecnicamente potreste anche sacrificare gli incendi aumentati da due per buttarci qualcos'altro però comandanti io l'ho trovato interessante schierato in questo modo potete anche tranquillamente sacrificare una skill livello 1 e la skill di incendio per aumentare neanche gli hp perché come sapete non sono poi tanti quelli a bordo del tone di punti vita però comunque ne ha scelto prima avete visto che con questo setup comunque l'incrociatore lavora abbastanza bene passiamo alla scheda armatura del leggendario crociatore giapponese sovrastrutture da 16 cittadella laterale da 27 ma in realtà non è la cittadella è un rivestimento che ricopre quasi tutta la fiancata della nave a parte la prura che è da 26 tutto il ponte centrale compreso la poppa è da 27 le torri come ho detto durante il video del gameplay sono da 25 mm ed è per questo che sono così facili da incapacitare state molto attenti perché ogni tanto le torri partono e non potrete farci assolutamente niente l'Eurogaming ha deciso sì di mettere questo incredibile compartimento offensivo a prua della nave come poi hanno fatto i giapponesi durante la seconda guerra mondiale però queste torri sono molto molto fragili la cittadella è praticamente la seguente quello da 40 mm in basso è praticamente il suo rivestimento anti-torp che però non è particolarmente efficiente la cittadella è praticamente separata in due è da 100 mm esattamente a centro nave di poco superiore rispetto alla linea di galleggiamento quindi la si può trovare l'avete visto che è un colpo in cittadella l'abbiamo preso però bisogna essere completamente broadside rispetto al nemico è molto interessante questo fasciame da 145 che è sotto le torri principali perché oltre ad essere ribassato è a tutti gli effetti un millimetraggio superiore rispetto ad esempio a quello della Tago di conseguenza se angolati la nave potrebbe anche scheggiare più colpi di quello che pensate e l'avete visto esattamente in questa partita con tantissimi colpi scheggiati sia sui 400 pass a millimetri della Maghi sia sui colpi con un calibro inferiore della Fuso e ancora prima della Colorado mi pare che qualche volta ha sparato contro di noi Comandanti parte finale del video i pro e i contro dell'incrociatore quei almeno che io ho riscontrato i vantaggi velocissimo ma non velocissimo di più è praticamente un missile macchina incendi come un piromano l'avete visto il proiettile esplosivo risulta particolarmente potente l'avete visto mimetismo straordinario siluri fino a 10 km aere ossidurante a disposizione capace di angolarsi e sparare senza problemi estremamente divertente vi assicuro che portare a spesso le corazzate e farle imprecare perché ogni 2-3 salve di butti dentro un incendio è oggettivamente divertente almeno per un cruiser player lo è sicuramente di meno per chi gioca a battleship perché è frustrante e infine in grado di rigenerare punti vita non tutti gli incrociatori tierotto sono in grado di recuperare punti vita come il tone come la tago e lui sicuramente è uno di pochi di questi per quanto riguarda invece i difetti della nave alcuni sono marcati altri sono un po' meno il primo sicuramente è marcato proiettile più non sempre affidabile l'avete visto anche durante la live che abbiamo fatto su twitch dove vi invito a seguirmi durante la settimana e ogni tanto il colpo sembra un colpo diretto alla cittadella invece o fa overpen oppure fa una penetrazione con pochi danni io preferisco sempre andare quasi full h sugli avversari a meno che non siano oggettivamente molto vicini per quanto riguarda l'agitata è limitata ma è un marchio di fabbrica dei cruiser giapponesi quindi in realtà è un punto debole solo da un punto di vista lunghi tempi di ricarica assolutamente vero armature estremamente debole torrette principali facili da danneggiare l'antiera terribile questa è proprio una cosa peggiore assoluta l'antiera fa veramente schifo contro le tier 8 è un parto comandanti contro le tier 10 fidatevi che praticamente è meglio mai separarsi dal gruppo è a pagamento perché comunque è un incrociatore che costa dei dobloni costa dei gold quindi non è accesso gratuito purtroppo e infine i siluri lanciati dalle squadriglie raramente causano offloading avete visto anche voi diversi incrociatori diversi nostri siluri sono andati a segno nemmeno uno ha causato una falla ed è una cosa che avevamo già visto anche sull'ISE è proprio che la wargaming abbia messo volontariamente questi aerossiluranti con una ridottissima capacità di causare dei flooding agli avversari è una cosa sulla quale bisogna oggettivamente farsi l'abitudine comandanti questo è il tono spero che il video vi sia piaciuto spero che vi stiate divertiti spero che diciamo abbiate trovato comunque informativo il video magari se avevate dei dubbi se comprarlo o no e se uno mi domandasse vale la pena comprarlo eh comandanti dipende da voi se vi piacciono veramente così tanto gli incrociatori oppure no per un main cruiser sicuramente è una scelta divertente per un no main cruiser potrebbe trovarsi molto molto male perché non tutti si abituano a questa gittata non tutti si abituano a giocare in kiting non tutti si abituano a giocare diciamo selezionando bene i target e soprattutto leggendo benissimo la mappa e i push dei nemici è un gameplay molto complicato e molto tecnico sicuramente è un crociatore molto tecnico da questo punto di vista se avete delle domande rimango a disposizione sotto i commenti su youtube per il resto io vi aspetto in un prossimo video da Blizzard è tutto comandanti buona caccia